L'intenzione sta alla base dell'azione e noi dobbiamo agire per giustizia seguendo il puro principio del dovere. Devi fare qualcosa di giusto perché devi per nessun altro motivo. Il dovere precede ogni cosa e non viene dall'esterno, parte dal soggetto stesso. Pertanto il dovere è la nostra unica ed autentica forma di libertà e la pratica è ciò che facciamo agendo come esseri liberi perché nella vita bisogna prendere delle decisioni e sono le decisioni a dirci chi siamo, se siamo giusti o ingiusti. Quando ci riconosciamo in una connessione e la troviamo necessaria riscopriamo la nostra dignità e percepiamo il respiro del pianeta. Grazie. 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 Grazie.